L'appartamento prenotato dalla Westline Limport. Ecco i passaporti di Mr. David Catania e di Mr. Frank Webster. Se vogliono salire. Certo, Ebba. Hello. How do you speak Swedish? Ma qui siamo a Milano, siamo mica a Stoccolma, sa, signora Kennedy. Milan? Oh, we're in Italy, honey. We can drink vino. Ghiaccio? No, non bevo alcol. Thank you. E tu non bevi qualcosa? No, grazie. Ho già bevuto abbastanza giù al bar. Well, alla nostra e alla mia. Lui è a Stemmio. Mr. Catania, io me ne vado. Ditemi soltanto quando debbo tornare e sarò puntualissima. E smettila con questo signor Catania. Mi chiamo David e basta. E lui chiamalo Frank. Va bene. C'è una ponte a King Garage, Milano K756189, a vostra disposizione. Per il resto, qualunque cosa vi occorra, conosco mezzo a Milano. Che fai? Te ne vai? Non è che io debba andare. Ve l'ho detto, potete disporre di me 24 ore su 24. Se volete posso aspettarvi nella hall. Il tempo necessario per cambiarmi. Pure io mi sto cambiando. Appunto, volevo aspettare giù per non vederti cambiare le mutande.